Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono 6 km di coda per incidente tra Calenzano e la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso. Sulla FIPILI per lavori 2 km di coda in direzione Mare tra la Strassinia e Ginestra Fiorentina, 1 km in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Ci sono poi 2 km di coda per incidente in direzione Livorno tra il Bibio per la 12 e Livorno Aurelia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!